Ciao a tutti, faccio questo video in attesa di entrare in trasmissione, sto aspettando che scarichino l'altro programma per poi entrare io a registrare, quindi ne approfitto per fare un video. E niente che dire, lo farò l'ultima volta veramente, perché ne ho parlato con Miriam, perché veramente ha rotto le palle, questa cosa sta diventando stucchevole, noiosa, per cui da ora in poi veramente mi impongo di non nominare più determinati personaggi. Quindi massima solidarietà per chi ha ricevuto attacchi, come può essere Katia, come può essere Roberto Benigni, che Roberto Benigni, alla Katia, per carità, non va toccata, perché è una donna, uno potrebbe dire, vabbè, mi ha fatto di video contro, quindi diciamoci anche la scusante, ma Roberto Benigni, ma te che cazzo ti ha fatto? Nulla, apparentemente. Poi nel privato lui può dire, per te è corno, ma te che te frega, per dire, se anche fosse, non ha detto nulla, ma se anche l'avessi detto, non è il problema che ti riguarda. Ok, quindi solidarietà nei confronti di Katia, Roberto Benigni, Monia, insomma tutti quelli che hanno ricevuto attacchi da questa persona. Ok? Dai. Non ne parlerò, cercherò di non parlarne più, veramente, perché mi sta prendendo da noia. Ciao.